Regione e Anci Toscana hanno espresso preoccupazione per gli effetti sul territorio regionale del decreto sull'immigrazione approvato a fine settembre dal Consiglio dei Ministri a preoccupare in particolare l'abolizione di fatto del permesso di soggiorno per protezione umanitaria che, hanno detto l'assessore regionale all'immigrazione della Regione Vittorio Bugli e del Comune di Firenze Sara Funaro, rischia di creare 5.000 persone irregolari in Toscana. Le persone che sono negli SPRAR, per esempio il 40% con un riconoscimento umanitario, persone che sono nei CAS, per esempio anche se un riconoscimento umanitario, automaticamente non essendoci più questo tipo di riconoscimento, questo è il motivo fondamentale, poi ce ne sono altri, sono alla pari di quelli che hanno una risposta negativa al riconoscimento di profugo e quindi diventano automaticamente come fossero dei clandestini. Una situazione, ha aggiunto Bugli, fatta presente dalle regioni anche al Ministro dell'Interno Matteo Salvini, che non sarebbe gestibile con un centro per il rimpatrio da 100 persone, con il rischio di aumentare la presenza dei cosiddetti migranti invisibili senza permesso di soggiorno sul territorio. Oltre a questo c'è il tema dello SPRAR. Noi abbiamo un sistema che funziona bene, un sistema che è differenziato per le varie tipologie, noi riteniamo che questo sistema debba essere difeso e che si debba portare avanti perché è l'unico sistema che permette una reale integrazione e inclusione sociale. Grazie per la visione!